E danziamo i nostri coni per cantare la verità. Il 17 febbraio alle ore 19.30 alla Mezzia Terme, presso il Grand Hotel La Mezzia, i Lamettini hanno una grande opportunità, quella di ascoltare un relatore d'eccellenza, Mario Di Nolfi, il fondatore e presidente del Popolo della Famiglia, che presenterà il suo ultimo libro O capiamo o moriamo. Sì, cari amici, o capiamo o moriamo in una società dove i nostri politici vogliono distruggere la famiglia, la vita e la purezza dei nostri figli dall'ideologia di genere. Vi invito tutti a partecipare, sarà un momento unico di istruzione, formazione e informazione. Invitate quanti più amici potete, vi aspettiamo e insieme capiremo un linguaggio fuori dagli schemi, un linguaggio che nessun altro potrà parlare in questo momento storico.